Essere solidali significa essere spontanei, fare qualcosa che nasce da dentro, dal cuore, per poi donarlo a chi ne ha più bisogno. Essere solidali per noi di Marche Multiservizi significa essere semplicemente noi stessi, come siamo sempre stati, perché la solidarietà è la bellezza che unisce tutti in questi giorni di festa. Buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti.